Ciò che piace di Emma Marrone al pubblico, oltre alla sua voce, è la sua genuinità, la capacità di essere sempre autentica, reale, senza fronzoli e mostrarsi sempre per ciò che è. Ed è proprio questo suo non avere paura di farsi vedere vulnerabile, emozionata e, perché no, in lacrime che la rende una delle artiste più apprezzate non solo a livello professionale ma soprattutto umano. Tutta questa sua umanità, Emma l'ha mostrata ancora una volta e l'ha fatto durante un firma copie per il suo nuovo album Souvenir. All'improvviso, mentre era davanti ai fan, Emma è scoppiata a piangere dalla gioia scoprendo di essere prima nella classifica Fimi, Federazione Industria Musicale Italiana, proprio con il suo ultimo lavoro musicale che stava promuovendo in quel momento. Emma, incredula, si è lasciata andare a un inaspettato pianto liberatorio, un pianto di pura felicità che ha emozionato tutti, sia chi era presente in quel momento davanti a lei, sia chi ha visto il video sullo schermo del proprio telefono. Un video emozionante e dolcissimo che mostra tutta l'umiltà di una ragazza che, pur essendo affermatissima nel panorama musicale ormai da anni, piange ancora per i suoi successi e se ne stupisce anche. In tantissimi, infatti, hanno commentato il video in questione, pubblicato anche dalla stessa Emma sul suo profilo Instagram, con frasi di amore per la cantante Salentina. Ti ammiro, sei vera, naturale, sincera, di cuore, queste lacrime confermano solo che sei una persona unica, le scrive qualcuno. Bellissimo vedere un artista con oltre 14 anni di carriera piangere a dirotto per il suo quinto album prima in classifica è, invece, il commento di un'altra persona. Oltre 3.000 commenti d'amore per Emma che, ancora emozionata per quanto accaduto, non ha potuto che ringraziare tutti e ammettere di essere ancora senza parole. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.